e per a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono mattia 3 2000 siamo qui in questo nuovo video di quasi vede a kynator perché uno o due video ci devo fare con lui no che deve tutto quanto vedrei sfida vediamo se devo indovinare quello che voglio che lui indovini aspettiamo qua 30 mila ore allora mi devo fare logicamente me stesso quindi no no sì sì no non l'ho mai fatto oggi no probabilmente forse non porto gli occhiali sono minorenne non sono un capitano vabbè no non ha capelli in piondi con l'espritzer fornette facciamo così no 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 vive no oh però sì alcuni soffre il sole dico logicamente si sbriga a pensare tanto abbiamo quello che mi aspetta c'è la rivevo questo gioco qua cuochi gamer no molto easy non continuo perché è perso e lo devi accettare la sconfitta è una lista e wallah di google adesso vediamo un brawler siamo unita no 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 aspettate un po facciamo un genio va allora non credo no no non credo i capelli oddio è un genio non credo non ce l'hai capito no sì no sapesi sì una robot non è verde sì no siamo giro vaffanguro ma questo ventino a tutto non lo so io si è standard vediamo boh facciamo il creeper tanto se non sei vestiti sì non è un po no 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 su quattro no albilo in generale non lo so sì sì si dice che verde problemi di gianna volanzi divertisce e verde si ha trovato non credo e l'altro da pure questo va a cagare tizio sta adesso mi compro una bella decorazione per il nostro kinetor così diventa più bella al minimo allora tacche molto bene tutto corazzato tutto quanto molto pillo e sta a posto ok facciamo diciamo go no no troppo easy che potremmo fare ragazzi se avete delle idee scrivetemelo sotto nei commenti in questo video e così nel prossimo video potremmo cercare queste persone che voi avete scritto avete capito allora ne faccio un ultimo e basta che sarà e non lo so mmm 911 johnmines hello i capelli sei si no l'italia probabilmente no youtuber no visitano probabilmente no no contante no si miliardi di volte no si no no si combatte probabilmente non lo so non lo so no probabilmente no 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 ce l'ho trovato ma è islandese boh no maggiore n certo no sì no non lo so no no nudo non lo so bravo non lo sai qualcosa va bene ragazzi allora per questo video si conclude qua il prossimo video non so cosa faremo se minecraft oppure boh facciamata arriveremo qua qua noi messi a michael jordan guarda qua oppure il cappello ci possiamo mette è questo che poi quest'anno buon non so è un artesco tutto bello che scopro degli indiani un sacco d'europa mettiamo quel suo scuro qua sta a posto allora posso solamente di solo dire bella ragazzi nel prossimo video mettete like ed iscrivetevi al mio canale se volete anche commentare ciao a tutti al prossimo video ciao